di appiattimento del linguaggio. Questo secondo me alla lunga e su vasta scala crea dei problemi a livello sociale. Ecco, volgarità che viene spiattellata dappertutto con gusto e con forza. C'è una classificazione delle bestemmie? Non lo sapevo. Beh, come dire, cioè nel senso sì, quello che conta è l'intenzionalità. A un certo punto internet, soprattutto all'avvento di internet, era il luogo delle bestemmie, Germano Mosconi. Quindi internet in qualche modo, che era il luogo più anarchico che esistesse, si è costellato di persone che diventavano celebri solo per le bestemmie in qualche modo. Germano Mosconi è il paradigma più grosso. E quindi mi domando, ma forse evitare di reprimerle, di reprimerla? Però noi, non è forse vero che abbiamo bisogno di tabù. Ce li abbiamo i tabù? Sono tanti. Abbiamo bisogno di tabù, sì. Allora, io penso che, adesso non so, non puoi permetterti di dire e fare tutto quello che pensi. Cioè, il nostro inconscio... Attenzione, scusate. Cioè, noi inconsciamente reprimiamo certe cose. Don Alberto, io per esempio, io trovo che la bestemmia sia molto... Cioè, non la uso io la bestemmia. Non la trovo una cosa... No, mi offendo, vai tranquillo. No, per me è come un rutto, che cazzo ne so, capito? No, no, hanno peso, attenzione, hanno peso, sono d'accordo con te. Però io, rispetto ai tempi che corrono, io credo che questo periodo storico sia fortemente incentrato sulla sensibilizzazione dell'uso delle parole su temi un po' più importanti. Cioè, no, beh, cazzo, no. Eh, ma ragazzi... Esatto. Cioè, è stata una forte sensibilizzazione in Italia riguardo a queste tematiche qua. In altre culture non c'è questa cosa. In America non esiste. In America non è... Per quello dico una cosa tutta italiana. Perché allora, infatti... Perché... God damn... Non è considerata bestemmia. È vero. Che la traduzione letterale è mannaggia... Lui. È vero. Cazzo. Perché solo in Italia? Perché noi siamo anche la nostra cultura. Cazzo.